Vuoi scoprire chi ha deciso l'aspetto definitivo delle armature dei Cavalieri d'Oro? Vuoi scoprire com'è nato Saint Seiya? Vuoi scoprire come vanno considerati i film, se sono canonici o no? Oppure magari vuoi scoprire come viene creato Time Odyssey? O se è incuriosito dei progetti iniziali di Kurumada e di come sarebbe dovuto essere Saint Seiya? O ancora vorresti scambiare due parole e sapere l'opinione del regista del film Live Action uscito l'anno scorso? Beh, questa e tante altre informazioni sono disponibili all'interno del mio libro I Cavalieri d'Evo Zodiaco, la guida finale Al momento in vendita su Amazon, sta andando benissimo La regular è l'unica edizione rimasta, la deluxe è esaurita da un botto Link in descrizione, ciao! Torniamo a parlare di episodio G Requiem Perché negli ultimi capitoli ci sono state delle rivelazioni abbastanza sconvolgenti che vale la pena approfondire Ovviamente si tratta di capitoli che non sono ancora usciti in Italia quindi occhio che è tutto quanto spoiler ma quello che sta succedendo in questo momento è, da un bel po' di tempo in realtà un combattimento tra Fenix, ultimo cavaliere superstite sul pianeta dopo la distruzione praticamente dell'umanità quasi e Ponto inviato come sicario delle divinità antiche per far fuori anche lui Abbiamo visto come grazie al sacrificio di Pegasus Nero Fenix sia riuscito a indossare l'armatura nera del leone che poi si è trasformata in armatura d'oro del leone e quindi adesso Pegasus e Fenix sta combattendo contro Ponto indossando l'armatura del leone Il che è anche un piccolo riferimento alle battaglie che Ponto ha avuto contro Ioria all'epoca dell'episodio G originale Infatti nel corso degli scontri a un certo punto Ponto rivede Ioria in Fenix e ricorda le loro battaglie nel G A un certo punto quando tutto sembra perduto e Fenix sembra incapace di riuscire a sconfiggere un nemico così onnipotente brucia al massimo il suo cosmo e in suo aiuto arriva il cosmo di oltre 20 cavaliere del leone del multiverso perché Requiem ha veramente, come già Assassin prima di lui hanno veramente aperto le porte del multiverso e per la prima volta noi vediamo ben 21 cavaliere d'oro del leone provenienti da diversi universi, da diverse realtà che inviano i loro cosmi a Fenix per permettergli di combattere e quello che andiamo a fare in questo video è approfondire questi 21 cavaliere d'oro del leone perché in mezzo all'oro potrebbero esserci anche delle facce conosciute anzi sicuramente c'è almeno una faccia conosciuta ma è probabile che ce ne siano molte di più le premesse generali sono che questi cavaliere hanno tutti quanti un aspetto diverso e in alcuni casi cambia anche la loro armatura come a dire che non in tutte le realtà del multiverso l'armatura del leone è la stessa e soprattutto che i cavaliere del leone non hanno lo stesso aspetto in tutte le dimensioni anche perché altrimenti sarebbero stati 21 croni ora chi sono questi cavaliere d'oro? nessuno di loro viene chiamato per nome li vediamo soltanto in due grosse tavole ognuno di loro ha un piccolo riquadro all'interno della tavola in alcuni casi anche coperto dalle scritte quindi diciamo che ci vuole molto intuito ma quello che voglio fare è soprattutto descriverli uno per uno ora nella prima tavola cominciamo con un cavaliere del leone che sembra lo Ioria di Episodio G è giovane, ha i capelli a metà tra il biondo e il rosso e indossa l'armatura a mantello il mantello sopra l'armatura diciamo in una maniera che ricorda molto lo Ioria del G quindi direi che si può dire con buona sicurezza che si tratti di lui poi c'è un secondo cavaliere del leone di spalle che indossa un'armatura che sembra più quasi un esoschevito che gli copre la colonna vertebrae e la schiena ha i capelli corti, ha un corpo muscoloso appunto la differenza principale, l'aspetto della corazza anche se essendo di spalle piccolino e coperto dalle scritte di lui non si vede assolutamente granché il terzo cavaliere del leone ha invece un ermo diverso intanto un'armatura dall'aspetto leggermente diverso ma è un ermo elemento più particolare ha gli occhi chiusi e i capelli biondi lunghi tanto è vero che ricorda un pochettino Shaka dall'aspetto con gli occhi chiusi sembrerebbe quasi essere in meditazione quindi potrebbe essere un cavaliere del leone di una realtà in cui i leoni sono un pochino meno aggressivi e più simili ai cavaliere della Vergine il quarto è particolare perché il primo cavaliere d'oro è nero abbiamo un, nonostante sia biondo con i capelli rasati cortissimi e gli occhi azzurri ma apparesemente alla carnagione nera quindi abbiamo il primo leone di colore della storia di Senseia e il primo cavaliere d'oro di colore della storia di Senseia poi c'è un altro che si vede abbastanza bene di profilo con i capelli cortissimi raccolti in un piccolo codino sembra un po' più grande ma veramente abbastanza anonimo non c'è granché che si possa dire su di lui in alto si vede un cavaliere del leone che sarebbe il sesto che è completamente coperto da un mantello incappucciato quindi veramente potrebbe essere chiunque e accanto a lui c'è un cavaliere del leone anziano con i capelli brizzolati e l'armatura in buona parte coperta da un mantello ora questo cavaliere è uno dei due che potrebbe essere Irias di Lost Canvas ovviamente reinterpretato nello stile di Okada in realtà non credo che sia lui credo che Irias sia un altro ma il fatto che sia più anziano e con l'armatura nascosta da un mantello è qualcosa che ricorda un po' Irias poi al centro c'è un leone visto frontale che sembra somigliare un pochettino a Iria e potrebbe essere Kaiser del Next Dimension ma in realtà è molto difficile a dirsi perché tra lo stile di Okada è il fatto che Kaiser somigli molto a Iria ecco soltanto la somiglianza con Iria stile Okada può farlo passare per Kaiser in basso c'è un bambino cavaliere del leone che però sicuramente non è Regus di Ome di Lost Canvas perché indossa un elmo a criniera che non è il classico elmo di Leo che invece Regus indossa poi c'è un altro che secondo me potrebbe essere anche un'altra bambina cavaliere del leone in una foresta con l'elmo che è ancora diverso stavolta è una maschera a forma di testa di leone con tanto di occhi e zanne sopra la fronte quindi avere un'armatura diversa la identifica come un cavaliere di Leo che non abbiamo mai conosciuto in basso c'è una donna primo cavaliere d'oro del leone donna visto finora e in primissimo piano di profilo quindi anche in questo caso non c'è gran cae che si possa dire nella seconda pagina le cose si fanno ancora più interessanti perché abbiamo in alto un cavaliere di Leo di spalle con stavolta i capelli castano-rossicci e questo credo che abbia maggiori possibilità di essere Kaiser ora c'è un discorso di diritti che va fatto ne parlerò meglio un po' più avanti quindi può anche darsi che non si voglia far capire esattamente chi è chi che io sappio Kada neanche su Twitter e sui social ha indicato l'identità di questi cavaliere detto che comunque visto che in Assassin sono comparsi Izzu e Dettor credo che almeno i personaggi del Next Dimension quando vuole li posso utilizzare ma comunque c'è questo cavaliere d'oreone dei capelli rossicci castani di spalla che appunto giusto per il colore di capelli e per il fatto che l'armatura sembra quella classica potrebbe essere Kaiser c'è un altro cavaliere d'oreone di profilo di tre quarti in mezzo nascosto da due scritte quindi non lo si vede granché ed un altro sotto con i capelli semi corti che gli coprono parte del viso ora questo è uno di quelli è un altro di quelli che potrebbe essere Ilias così come potrebbe essere Ilias il successivo che è un altro cavaliere d'oro completamente coperto da mantello cappuccio e così via il problema è sempre quello che si tratta non solo di riconoscere il personaggio ma anche di riconoscere ridisegnato e interpretato nello stile di Okada che ovviamente non è il più più somigliante diciamo non è un autore che riproduce i personaggi in maniera proprio immediata da riconoscere può anche darsi che nessuno di questi sia Ilias come detto non c'è una conferma però se dovessi così scommetterci mi sembra strano che non lo abbia inserito la cosa più interessante è nella pagina successiva perché c'è un cavaliere d'oro del reone che indossa soltanto il bracciale dell'armatura è ai capelli a codino e sembrerebbe proprio Michene di Sensei Omega il carriere del reone di Omega ora in questo caso l'assenza dell'armatura a parte il bracciale sarebbe un discorso di diritti infatti ricordiamoci che tutte le creazioni dell'anime sono copyright Toei e non possono essere inserite su carta senza accordi commerciali vari con Toei il fatto che questo reone abbia però la stessa pettinatura di Michene e indossi soltanto il bracciale dell'armatura che era un po' il pezzo tipico che in Omega a volte i cavaliere indossavano da solo in addestramento mi fa pensare che potrebbe essere lui disegnato di sparo in modo da non mostrare la cicatrice a croce sulla fronte quindi secondo me di tutti quelli visti finora è molto probabile che questo qui sia Michene a fianco a questo presunto Michene c'è un giovanissimo cavaliere di reo da varnatura che sembrerebbe classica per quel poco che si vede praticamente soltanto il colare che credo potrebbe essere Regulus sempre da Omega da Lost Canvas sopra ci sono altri due cavaliere di reone uno di tre quarti di cui veramente non si può dire granchè capelli castani primissimo piano e un altro molto giovane molto somigliante a Ioria tant'è vero che il dubbio che potrebbe essere anche lo Ioria del G più giovane o no Ioria del passato però non è impossibile dirlo per certo chi invece si riconosce più facilmente sopra di lui è Galan perché Galan intanto ha la cicatrice su occhio che è tipica di Galan ora Galan aveva perso occhio in quel combattimento con Michene in questa realtà è chiaro che il combattimento con Michene non c'è stato però a parte questo per pettinatura colore e appunto questa cicatrice sugli occhi credo proprio che sia lui e ricordiamoci che Galan si era addestrato per ottenere l'armatura del leone nel passato di Episodio G poi non c'era riuscito aveva rinunciato ma è possibile che in un altro mondo del multiverso ci sia riuscito e il cavaliere del leone sia diventato lui e infine c'è un altro cavaliere del leone che è così nella mia testa magari è Ioria dell'anime però ovviamente è soltanto un'ipotesi è disegnato sempre in stile Okada di Sparre quindi può essere chiunque e poi ovviamente in primo piano in basso c'è Ikki che sta lanciando il suo corpo segreto controponto quindi ecco abbiamo questa correzione di 21 cavaliere del leone ora è possibile assolutamente possibile che tutti e 21 a parte Galan che credo sia abbastanza pacifico ma tutti gli altri 20 siano personaggi creati così improvvisamente da Okada e che non siano davvero i personaggi delle altre serie ma considerando così l'idea di sfruttare il multiverso mi sembrerebbe un po' un'occasione sprecata richiamare 20 cavaliere del leone da 20 dimensioni e non metterci dei piccoli inside joke con i personaggi degli altri manga di sensei per cui al netto che non arrivino smentiti ufficiali in cui Okada dichiara che sono tutti personaggi nuovi diciamo che reputo possibile che ci siano qui in mezzo Kaiser da next dimension Irias e Regulus da Lost Canvas e Michene da Omega e magari anche uno Ioria dell'anime chissà sono supposizioni ma in fondo il bello è anche questo ma al netto di tutto è interessante come questo multiverso si stia espandendo e abbiamo visto appunto almeno 21 universi diversi con altrettanti cavaliere d'oro di tutti gli aspetti di tutte le particolarità come dire che il mondo di sensei è sicuramente bello vasto un'altra cosa interessante che accade poco dopo è che Ikki utilizza controponto il photon burst ovvero la tecnica ideata da Ioria nel G originale questo sembra confermare che almeno per Ocada le armature conservano una parte dei ricordi dei colpi segreti e che poi magari è necessario un addestramento o il supporto il sostegno di altri carrieri del leone per riuscire ad eseguire effettivamente questa tecnica Ikki la esegue con l'aiuto diciamo ispirato dai cosmi dalle energie che riceve dagli altri carrieri di Vero però comunque il fatto stesso che riesca ad eseguire questa tecnica che è una tecnica che in teoria era stata inventata e creata da Ioria durante il suo addestramento con Micene indica come l'armatura abbia conservato almeno una parte di queste informazioni anzi nel momento in cui Ikki non sta indossando la vera armatura del leone ma l'armatura del leone nera che è stata poi risvegliata è possibile che queste informazioni siano contenute non nell'armatura ma persino nella costellazione nell'energia cosmica che poi Ikki riceve nel momento in cui indossa la corazza tutto molto meta tutto molto affascinante voi che ne pensate vi piacciono queste novità aspettate di leggere in italiano scrivetele come sempre nei commenti qua sotto e scrivete anche chi è il vostro leone preferito di questi 21 anzi 22 con Ikki che compaiono in questo capitolo chissà che più avanti non si vedono anche i cavalieri del multiverso di artisegni del rozodiaco noi ci vediamo intanto al prossimo video ciao